L'essere Fideidonium in Thailandia credo che abbia una grande importanza, ma anche una grande sfida, prima di tutto a livello personale, nel senso che ti mette nella condizione di doverti riproporre come prete, di doverti guardare in giro, di dover ascoltare, di guardare, di meditare e poi di insieme con le persone che incontri cercare di capire quale sono le realtà, le sfide del tempo. L'essere Fideidonium in Thailandia vuol dire portare quella parola di Dio che non è conosciuta o perlomeno è conosciuta molto poco. L'essere Fideidonium in Thailandia è aiutare, cercare perlomeno con i propri limiti, ma anche con la propria realtà umana, cristiana, di vita, di fede, e aiutare questa Chiesa a scoprire modi diversi di vivere, di porsi all'interno della realtà sociale in cui esso si trova a vivere. Questo vuol dire non rompere con le tradizioni, ma essere attenti alle tradizioni, entrare nelle case, entrare nel cuore della gente, entrare nel cuore delle altre persone che insieme con te lavorano dentro questa realtà. L'essere missionari dentro questa Chiesa vuol dire anche spronarla in un certo senso ad uscire dal guscio che magari si è creato vista anche la minoranza in cui essa si trova e le condizioni anche sociopolitiche in cui si colloca. Sono grandi sfide, grandi sfide che vanno affrontate insieme alla luce di una parola che è la parola della parola di Dio, quell'andare verso i poveri, verso le periferie, che ci dice costantemente Paolo Francesco dove diventare per noi la sfida più grande. non chiudersi nel guscio dell'esistente ma l'uscire verso quella grande realtà di popolo e di gente che pur professando un'altra fede ha una vita bella, una vita gioiosa, una vita che sprona a farsi compagni di strada. credo che l'essere fidedone qui in Asia non sia solamente una sfida ma anche un grande dono che Dio ci dà, che Dio ci dà proprio per comprendere in questa parte del mondo che poi sono quasi i due terzi della popolazione umana le grandi bellezze che Dio va operando in queste persone teniamo sempre presente che Lui è arrivato prima di noi questa è la grande bellezza e di questo te ne accorgi ogni giorno quando incontri le persone quando fai esperienza di vita e di cammino insieme. I poveri cariani mi stanno o i poveri in generale soprattutto delle etnie stanno insegnando l'umiltà l'umiltà e la disponibilità ad essere comunque portatori di speranza portatori di speranza dentro la realtà in cui vivono è difficile trovare un povero che si dispera poi dobbiamo pensare a che povero perché poi c'è il povero economico ma c'è anche il povero umano sono due cose diverse il povero economico qualche volta ti chiede ma porta in sé una grande una grande diciamo fiducia di sé è una figura il povero interiore come colui che brancola nel buio e che ha bisogno di attenzione che ha bisogno di essere ascoltato e questa è un'altra sfida l'ascolto l'ascolto in un popolo che oltretutto poi non si apre molto difficile che ti si racconti fino in fondo la propria storia umana e che la devi intuire la devi un po' alla volta scoprire e dentro questo accompagnare e che la devi accompagnare è un'altra sfida è un'altra sfida